Ciao a tutti, i giornalisti che cavalcano l'onda anticlericale ci dicono che in nome della libertà è giusto non battezzare il proprio neonato, perché bisogna inculcargliela sin dall'infanzia la possibilità di scegliere il suo destino. Peccato però che in nome di ciò che definiamo progresso stiamo distruggendo secoli, anzi millenni, di storia. Il significato del battesimo infatti è molto più profondo di quanto scritto dal giornalista del fatto quotidiano ed è volto a dare un significato alla vita stessa di ognuno di noi. E non è un'imposizione, bensì un rito simbolo della cristianità e della cultura europee. Essere consacrati a un qualcosa che trascenda la realtà terrena, evidentemente, non è consolo agli attuali canoni imposti dalla democrazia moderna che fa del materialismo una vera e propria religione. Altrimenti chi governa correrebbe il rischio di vedere l'uomo distaccarsi dalla vita terrena per agganciarsi a una morale superiore. E il gioco terminerebbe inevitabilmente con il clorlo della piramide del potere, che ha come base proprio la nostra ignoranza. Loro però lo hanno abilmente evitato e continueranno a farlo. Quando dico loro mi riferisco a loro, i veri potenti. Ci hanno imbrogliati, ci hanno cambiati spacciando la nostra natura per un qualcosa che non è. Ora l'uomo è un semplice prodotto e per mezzo del suo sé, abilmente plasmato dal sistema, può chiedere e ottenere ciò che vuole. Quindi perché non eliminare anche il battesimo, frutto di un'imposizione ormai superata e retrograda che viola il diritto del singolo individuo di scegliere? Il battesimo è ormai roba vecchia e poteva andare bene quando l'umanità non era stata ancora liberata nel corpo e nello spirito dalla dittatura democratica globale, quella che esaudisce ogni richiesta e capriccio in nome del progresso e della libertà. Siamo dei contenitori privi di spiritualità e cultura, gettati in un mondo che permette di modellarci con una vasta gamma di servizi gentilmente offerti da qualche multinazionale. Si parte dalla religione, passando per il diritto a togliersi la vita, fino ad arrivare all'identità sessuale. Anche quella è un'opzione ormai, si nasce neutro e poi arrivati a una certa età si sceglie chi o cosa essere. Non vi preoccupate, il catalogo dei diritti è in continuo aggiornamento, come un software scaricabile. Manca solo la liberalizzazione della sessualità infantile, o forse no, visto che molte scuole e addirittura asili incominciano a parlarne. Se leggeste i commenti sotto l'articolo del Fatto Quotidiano, che vi ho fatto vedere all'inizio del video, rimarreste di stucco una marea di zulu senza pensiero e opinione, intrisi di una rabbia abilmente fomentata dai mass media manipolatori, che elogiano il gesto e addirittura ne divinizzano l'autrice. Con un paese in rovina sociale, economica, morale e soprattutto spirituale, però la rovina spirituale non ve la dicono, ovviamente, o almeno non ve la sottolineano, non ve la evidenziano, si pensa al diritto di non battezzare i propri figli. Non mi stupirei se la presidenta, attenzione, presidenta della Camera Boldrini se ne esca con qualche strambo disegno di legge volto a laicizzare ancora di più il paese. Se ciò accadesse, non dovremmo prendercela con lei, perché il Parlamento non è altro che lo specchio di una coscienza popolare ormai assopita. Loro sono sempre lì e continuano a starci anche e soprattutto grazie a noi. Sono come parassiti biologici, abili nel camuffamento che succhiano risorse ed energia al paziente fin quando chi di dovere, uno specialista con l'occhio un po' più a gozzo, se ne accorge e allarma il paziente, che inizia una cura per eliminarlo. Forse tutti, in cuor nostro, attendiamo con ansia qualcuno che ci salvi da questo schifo, un nuovo messia che prenda su di sé il peso di 70 anni di errori esperperi solo ed esclusivamente per salvarci, per l'amore di questa nazione. Ma, ahimè, così non sarà.